Non solo perché serve un giocatore che salti l'uomo, che trovo assolutamente corretta come desamina, il fatto del parametro zero, non facendo il commercialista, mi interessa relativamente da tifoso, ma mi interessa il fatto che un giocatore così segna tanti gol e soprattutto è molto utile dal momento in cui la squadra fa fatica, come in questo periodo storico, a trovare la soluzione estemporanea. Assolutamente, credo che Di Bala sia un valore aggiunto, lo abbia dimostrato nella Juventus, lo abbia dimostrato anche nelle ultime settimane quando è stato chiamato in causa, perché non a caso la sua voglia di rivalza di cui si parla la sta dimostrando anche... Ma preferisci avere Lautaro o Di Bala in squadra? Scegli? Tutte e due, non devo scegliere. Non lo so se è fattibile, per quello che te lo chiedo. Io sono più preoccupato per Barella che per Lautaro, perché onestamente sento delle campane dall'estero, soprattutto per Barella e quindi dico la verità, tifo anche l'Argentina, avendo origini argentine, vedere una coppia d'attacco Lautaro insieme a Di Bala mi piacerebbe tantissimo, tenendo presente che c'è anche Correa e quindi sarebbe veramente... Ma sai che è una cosa che nessuno calcola, ma se tu in Rosa c'hai Di Bala, Lautaro, Correa, tre argentini, quando partono tutte e tre per le nazionali, per la nazionale argentina, poi tornano e tornano tutte e tre belli stancotti, non è una cosa da tenere... No, Moggi ne parlava sempre, che sui giocatori sudamericani non ci andava spesso e volentieri. L'ha subito il Napoli, il Mila con la Coppa d'Africa ad esempio, è fisiologico ormai nel calcio di oggi, nel calcio in cui si gioca tanto, anche come è normale che sia, perché i media imperversano. Io tornando a questa grafica volevo dire che è una grafica che è veramente fatta molto bene, complimenti ragazzi, perché in regia anche, perché sono queste le opzioni effettivamente, che il giocatore avrebbe una gran voglia di rivalza, vabbè mi sembra naturale, quello che è il fulcro fondamentale, che è a parametro zero, che l'Inter può sopperire a quella carenza che ha di saltare l'uomo, perché gioca con teorie, centrocampo impegnate su un grande bronzo, dice per carità. Allora, il signor Di Bala è un giocatore della distanza. Infine, quindi oltre che questo di positivo, di negativo, vi è il problema fisico. Ha avuto troppi acciacchi fisici, bisogna verificare, come ho sempre detto, lo dico per il Milan, perché l'onestà intellettuale sta qui, riposa qui al 100%, l'infortunio significa anche, molto spesso, una incapacità di saper derubricare l'allenamento in modo anche produttivo, ma non da noi. E quindi sarebbe giusto puntarci, mettendo sulla bilancia tutto? Giusto, l'Inter ci punterà, io sono certo che andrà all'Inter. La mia fonte forte marmina mi dà per sicuro il passaggio. Cioè, Di Bala stesso starebbe spingendo, io voglio l'Inter, io voglio l'Inter, io voglio l'Inter. Ma tu leggendo questi punti, però, che idea ti fai? Che sia giusto investire su di lui? Ma è giusto investire, qualche rischio c'è, come dice la seconda parte della nostra grafica, delle nostre osservazioni. Però ribadisco, ribadisco, Di Bala è un grande giocatore, è uno che inventa, adesso datemi del retorico anche oltre che del passatista, è uno che inventa calcio, in un calcio che è sempre meno qualitativo, sempre meno intrigante, eccetera, lui è uno che inventa calcio. Allora, la rivalsa ci sta tutta, allora io sono, dicevo prima, io sono un giocatore della Juve e vado all'Inter. Nel mio periodo di Inter c'era un certo tipo di atteggiamento nei momenti in cui cominciava il mercato. Ragazzi, ci interessa il giocatore Caio della Juventus? Ce l'abbiamo. Pensiamoci un momento, perché prendendo giocatori dalla Juve ci abbiamo quasi sempre rimesso. Se voglio ricordare l'anno di disgrazia 1977, il grande, il grandissimo Boninsegna alla Juve in cambio del povero Anastasi. Mi piace la componente storica. La componente storica a livello di tradizione. Questa la mettiamo all'effetto, Dani. Chiudo, se viene da quelli là, da quegli altri là, pensateci un momento. Perché non si sa mai, a livello di tradizione non è andata bene. Ezio. Allora, io non vorrei apparire come quello che adesso di Balla so che va via, quindi non mi piace più, però il primo punto vedo un giocatore che salti l'uomo alla Juventus da alcuni anni, l'unico giocatore che punta e salta spesso l'uomo al quadrato, punto e basta. Che poi di Balla sia un giocatore tecnicamente bravissimo, l'abbiamo detto e ridetto. e poi vi rifaccio sul perché no al primo punto, sulle garanzie, sul piano fisico, punto interrogativo perché questo ragazzo va per i 29 anni. Gli ultimi due praticamente l'abbiamo visto per un 30% delle gare che avrebbe dovuto… Ma per i 29 anni secondo te è vecchio? No, però sicuramente non è un 21-22enne, cambiano le cose per uno che forse ha dei piccoli problemi. Io mi auguro di no per lui, che stia bene, che giochi bene e che dica qualcosa se va a giocare all'estero, altrimenti ogni bene chiaramente… La seconda riga dice non ha mai trovato, scusa, velocissimo, non ha mai trovato una collocazione tattica ideale. I signori allenatori dove stavano? Tu c'hai di Balla, c'hai un giocatore straordinario e se lui non trova la collocazione tattica ideale come è scritto sulla nostra grafica, una qualche colpa ce l'avranno i signori Pirlo, Allegri e compagnia cantante. Antonio manchi tu a commentare questa grafica. Sarà sicuramente un affare, io non guardo in faccia chi acquisirà le sue prestazioni sportive, sarà sicuramente un affare per poi definire in Italia o all'estero, per poi definirlo un grande affare lo diranno i risultati. Il rischio c'è, ma c'è anche il rischio nel comprare un giocatore giovane promettente se poi si fa male o gli succede qualcosa. Ci sono tanti esempi dentro la Juve e fuori dalla Juve. Mi permetto di aggiungere un punto a favore dell'Inter. Il primo in quella lista perfettamente ideata e scritturata, lo stretto rapporto e la stima che c'è reciproca tra lui e Marotta. Marotta lo portò dal Palermo alla Juventus. Nel punto invece negativo ci metto, fortunatamente non è stato messo, come ho letto in questi giorni, sui giornali, tanto per enfatizzare l'operazione eventualmente, non è un uomo squadra, non è un leader. Questo lo sappiano le squadre che lo compreranno. Le squadre che hanno dei leader all'interno di queste squadre, collocato nel modo giusto, Di Bala è un super giocatore. Perché dico, sarà colpa anche degli allenatori. Ma se hai il 10 e devi giocare o far giocare Ronaldo, Tizio, Caio e Sempronio e cerchi sempre il rimedio, vai per spostare troppo dall'area di rigore. Un giocatore che a Palermo segnava, regalava assist, così come faceva nei primi tre anni alla Juventus. Gli ultimi, per tanti motivi, non stiamo qui a elencarli, ha reso sempre meno. 61 partite in 7 anni saltate per motivi fisici sono davvero troppe però. Paolo Ezio, poi chiudiamo. Sì, c'è anche un altro aspetto che nuoce, diciamo, anche se l'operazione si farà. Che vuole un contratto di 4-5 anni, ne ha 29 fino a 34. Se nella parte iniziale della carriera Palermo e Juventus i primi 2-3 anni ha reso in un certo modo e poi è andato fievolendosi a causa dell'infortunio e delle sue prestazioni che sono state meno permeanti, non c'è dubbio che nella seconda parte della sua carriera negli ultimi anni, 4-5 anni, è un rischio. È un rischio, tenendo conto della sua struttura. Sì, sì, il rendimento della sua carriera sportiva è in calo, questo possiamo dire. Poi magari risale la grande. Sempre a livello altissimo, sempre a livello altissimo. Ma c'è, ragazzi, c'è Di Bala, qualitativamente non si discute. Che ha vinto il premio di miglior calciatore del campionato italiano due anni fa. Di Bala come qualità non si discute, ragazzi, saremmo fatti di discutere. Però pretendere 4-5 anni in queste condizioni, tanto quanto riuscirà a strappare, ve lo dico già adesso, da Marotta, è un rischio anche per l'Inter. Un amico mi ha fatto notare una cosa, un amico tifoso, bianco-nero, quindi dispiaciuto inizialmente, però mi ha detto, se noi prendiamo, togliamo dalla classifica la Juventus, guardiamo le avversarie, le prime 4, mi ha chiesto con chi è segnato Di Bala contro queste 4 squadre, Inter, Milan, Napoli e Atalanta. A memoria nessuna. Nessuna. Nessuna e quindi quando tu parli di calo in quest'anno... Però si è detto anche nella sua carriera, si ricorda quella partita con il Barcellona in casa della Juve? Io mi ricordo la partita contro l'Inter di Conte, perdonatemi, in pieno pochino. Me lo ricordo anch'io, ahimè. Straordinaria rete. Dico agli amici juventini, sono lo juventino, sono lo juventino, la Juve quest'anno perché il 3 della classifica non ha vinto con nessuna, quindi c'è un problema generale, non è Di Bala. Non mi piace scaricare i giocatori. Se andiamo a prendere i gol, quello a Roma contro la Lazio che ci ha portato lo scudetto, è stato un capolavoro, però se analizziamo l'ultima stagione, le ultime due stagioni... Se analizziamo le ultime 3, 2, 3, hanno ragione i numeri. Quindi, ripeto, non ha un bellissimo carattere, lo sappiamo. Non è un leader, lo sappiamo, ma da qui a trattarlo in questo modo ce ne passa. A mio avviso bisognava, e ripeto, ma fossi stato io in quella stanza dei bottoni, avrei messo nelle condizioni di dire no al giocatore, non di dire che ti avrei fatto una proposta a ribasso, perché in questa squadra c'è gente molto più debole di lui che gioca con una gamba sola e che fa molto meglio e che guadagnerà molto di più l'anno prossimo. Torniamo subito. Mercato Inter, perché con l'argomento di Bala di fatto l'abbiamo aperto. Restate con noi. Eccoci qua. Allora, Fede, rifacciamoci un po' al mercato dell'Inter. Poco fa anche Mario faceva allusione al fatto che Barella potrebbe salutare, e noi anche a questo ci rifacciamo in una formazione tra verità e un po' di utopia, diciamoci la verità, in particolar modo in attacco. Allora, sai, è normale a marzo si tracciano delle linee, non si può avere la formazione sicura di una squadra con il mercato che chiude il 31 agosto, però vi possiamo raccontare quelle che sono le possibilità, che ovviamente non si concretizzeranno tutte, però ci sono. La vediamo questa formazione. Ragioniamo sul fatto che l'Inter muova un po' in entrate e in uscita, quindi perché c'è Frattesi e non c'è Barella, perché per finanziare quello che però mettiamo in attacco una cessione ci vuole, per cui qui abbiamo tolto De Vrai, abbiamo tolto Barella e abbiamo tolto Lautaro Martinez, i tre che potrebbero partire quest'estate, però chi potrebbe arrivare al loro posto? Beh, potrebbe arrivare Bremer al centro della difesa, potrebbe arrivare Frattesi dal Sassuolo e soprattutto là davanti potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione. Di Bala ne abbiamo già ampiamente parlato, Scamacca sappiamo che, insomma, non è un segreto che l'Inter lo segua e che una possibilità ci sia, attenzione però al nome di Lukaku, perché tutto quello che sta succedendo al Chelsea, con le vicende che conoscete benissimo, che riguardano Roman Abramovic, lasciano aperto uno spiraglio a un qualcosa che sembrava essere solo fantacalcio e che invece non lo è, perché se Abramovic dovesse continuare ad avere questo tipo di sanzioni molto dure, noi ci auguriamo ovviamente che nel giro di poco tempo le cose migliorino e quindi magari anche da quel punto di vista ci sia un riflesso positivo, ad oggi il Chelsea non può vendere e non può comprare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tra qualche tempo i calciatori si rivolgeranno agli avvocati e cercheranno di capire se possono rescindere il contratto per giusta causa. Per cui vediamo quello che succede, Lukaku all'Inter ci tornerebbe, tanto che nei giorni scorsi avrebbe anche avuto già un contatto con la dirigenza dell'Inter, dicendosi disponibile ad abbassare il suo ingaggio. L'Inter chiaramente finché le cose non hanno un contorno un po' più chiaro non può promettere nulla. Però diciamo che l'Inter, la nuova Inter, sta prendendo forma. Concludo dicendo che là in porta c'è già un giocatore colorato di azzurro, cioè calciatore già acquistato ufficialmente dall'Inter. E stiamo parlando ovviamente di Onana, che diventerà il titolare a spese di Andanovic. Dani, quest'Inter sarebbe più forte di quella di quest'anno? Non credo, non credo. Anche con Lukaku? Vedo il nome di tale Gosensky, che non sono riuscito a prendere atto di questa... Ancora non ci hai fatto amicizia? No, non lo so. No, ma ogni tanto c'è questa mania, questa smania, mania e smania, lo dicevo prima al dottor Riso, di appiccicare addosso al giocatore Tizio Caio e Sempronio, dice è un campione. Ma aspettiamo un momento. Qualche giorno fa, neanche tanti, io non mi ricordo, io ho una mazzetta di 5-6 giornali al giorno, non mi ricordo su quale giornale, ho letto, ho letto che il signor Barella è il nuovo Tardelli del calcio italiano, non solo degli... Ma ragazzi, ma stiamo in chiesa. Come avevo letto o sentito qualche giorno prima, bravissimo, bravissimo il ragazzo Bastoni, il ragazzo Bastoni è bravissimo, grandi prospettive per l'amor di Dio, però già avvicinato a Colloati, ha dei gesti, degli atteggiamenti, dei movimenti, forte di testa come Colloati. Ma stiamo un momento calmo. Quindi se Barella partisse non ti fasceresti la testa? No, no. Non particolarmente? No, io sono ammiratore di Mario Corso, figurati. No, ma quello che ho visto io, ragazzi... Frattesi per Barella io non lo farei male. No, ma dovreste capire una cosa. Allora, io ho visto delle Inter, delle cose extra Inter, per l'amor di Dio. Io purtroppo, fortunatamente, mi occupo di, nel modo specifico di Inter, me ne sono occupato per 20-25 anni, e di calcio, eccetera, inviato, e in testa mi rimane. E ogni tanto, non faccio bene, probabilmente annoio, probabilmente annoio, e parlo di Mario Corso, e dice, ma chi è Mario Corso? E allora... No, lo so, però noi dobbiamo rimanere ad oggi. Ho capito. Allora, io dico, Gose, allora rimaniamo su Go, per l'amor di Dio, ho svicolato. Dai, poi sono in tanti anni. Gose ce l'hanno presentato come un... Nell'Atalanta ha fatto bellissime cose. Nell'Atalanta. E poi è arrivato da infortunato all'Inter, e adesso sta provando a riprendere il campo. Il portiere, conoscete, è così bravo questo, è più bravo di Dio. Insomma, io sono andato a documentarmi un po' sui social, non mi sembra questo fulmine di guerra. Né con i piedi, né con le uscite, né con le mani. Se mi consentite, poi dirò il mio parere sulla formazione. Ho Nara, il portiere che non ha fatto solo la papera in Coppa dei Rampioni con l'Ajax, ma soprattutto ha fatto due o tre papere in Coppa d'Africa, che sono state colossali. Sì, ma sono andato a vedere i video su YouTube, perché ero incuriosito da questo portiere, di cui parlavano tutti benissimo, anche con i piedi, calcio moderno, insomma, l'Inter che gioca partendo dalla difesa, quindi, onestamente non mi è sembrato un portiere che faccia la differenza. Le uniche due cose buone, 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 buone sono uno Bremer. Al posto di Debraici guadagni? Bremer lo prendo sempre. Sono d'accordo. Vado adesso a prenderlo in pacchetto, lo porto in Viale della Liberazione e Lukaku. Paolo, ma se questa formazione... No, di Dybala... E Dybala hai già detto. Ne ho già parlato di Dybala all'India. Se in questa formazione, più verosimilmente mettiamo Scamacca e non Lukaku, è più forte rispetto a quella di quest'anno? Questo più verosimilmente è delizioso, consentimi, non per piangeria, perché Lukaku è impossibile al 100%. Con Scamacca non è più forte. Mai dare impossibile. Onana non mi dà affidabilità. E Scamacca è un giocatore... E Scamacca e Dybala sono più forti di Dzeko Lautaro? D Dybala sì da solo se gioca sì. Sì, ma non scherziamo, dai. Se Scamacca e Dybala diventano i titolari dell'Inter... Scamacca deve crescere molto. Non si vince niente per i prossimi due o tre anni. Scamacca deve crescere più. Cioè, Dzeko Lautaro ti dà più garanzie? No, in realtà, secondo me, il problema è sostituire Dzeko in questo frangente. E l'Inter è l'unica squadra, anche nel calcio italiano, che non ha un canciatore in attacco che abbia il cambio di passo. Quindi Lukaku, in parte, potrebbe... Eh beh, certo. Lo ha dimostrato, però è difficile davvero che succeda, che venga liberato in prestito. Non è più forte di quello attuale. No, però l'Inter in questo momento non riesce a ripartire mai in contropiede, non riesce mai a tenere alta la squadra. Ma in una fase non di stallo, in una fase veramente di bassa condizione attuale. Tra poco poi parliamo anche dell'Inter attuale, la situazione in Zaghi, Ezio. Ma, eh, dando per scontato, perché è scontato l'arrivo di Onana, di Onana, ma gli altri, l'Inter ha la possibilità di tutti questi lauti stipendi? Beh, però qua tu vendi Varella e vendi Lautaro, eh. Sono soldi. Io sapevo di qualche problemino. Non pensa che Lukaku torni indietro solo ed esclusivamente per ribaciare la maglia e poi magari come ha fatto, visto che la baciava fino a mezz'ora prima, poi ha preso e se n'è andato. Sì, ma il prossimo anno Sanchez e Vidal non avranno più l'ingaggio che hanno. Andranno via. Beh, se vanno via. No, se rimangono, se rimangono addirittura Vidal avrà un aumento rispetto a quella tua. ricordandosi con River Plate. Però Vidal ha chiesto. E Vidal vuole andare in Brasile. Vuole andare a Flamenco. Vuole andare a Flamenco. Antonio, dai, chiudiamo l'argomento sulla formazione Inter, che è idea che ti scaturisce. Guarda, non so dirti se è più forte in questo momento. Provavo a ragionare mentre ne parlavate. Certamente sarà una situazione da cui ripartire da zero anche per l'allenatore. Mi sarei aspettato Se ci sarà ancora l'allenatore Tra poco ne parliamo. Stavo dicendo proprio questo. Mi aspettavo da Danilo un appunto maggior. L'argomento è stato rinviato Sinedie. Esatto. No, capisco. Però questa squadra con questo allenatore hai bisogno di un po' di tempo. Con questo allenatore o con qualsiasi altro allenatore. Dico che le squadre italiane ragionavo così a tutti i livelli. Non solo sull'Inter in questo momento. proiettavo un po' le squadre italiane in Europa e vedevo ancora un anno difficile e complicato. Ripartiamo tra due minuti. Inzaghi è in discussione o meglio sarebbe giusto metterlo in discussione in relazione a quello che sarà il suo finale di campionato? Ce lo chiediamo tra due minuti. Più che giusto.